Ciao piappieri, sono Gabriella, bentornati sul mio canale Oggi vi parlo di Sognando Elvis di Veronica Vieci Carratello che è una nuova uscita a Bao Publishing, uscito di recente appunto per la Bao e che potete trovare al prezzo di 19€ Io ho potuto leggere questa graphic novel in anteprima e io l'ho adorata mi ha fatto anche molto sorridere, oltre che riflettere tantissimo Io avevo già apprezzato molto l'autrice con Freezer ve l'avevo già parlato in qualche video, magari se mi ricordo ve l'ho detto nelle schede o nell'info box è una graphic novel che mi ha emozionato tanto e che parlava di un argomento completamente diverso e ho potuto anche incontrare un paio di anni fa, forse anche tre l'autrice al Salone Internazionale del Libro a Torino e abbiamo parlato appunto di Freezer, quindi spero magari di incontrarla prossimamente anche per Sognando Elvis, perché io ho adorato questa storia e ormai apprezzo tantissimo anche il suo modo di disegnare cioè ormai se vedo un disegno mi sento quasi sicura nel dire ok, questa è Veronica Vecci Caratello perché il modo di disegnare gli esseri umani è molto particolare e contraddistingue appunto lo stile dell'autrice ora vi volevo trovare una tavola senza spoiler per farvi capire appunto il modo in cui lei ci presenta appunto gli esseri umani e gli stessi anche paesaggi o comunque luoghi rappresentati nei fumetti sono molto semplici ma hanno anche uno stile molto particolare che appunto riguarda l'autrice che a me piace tantissimo questo è il retro della cover e per iniziare a parlarvi un po' di cosa parla vi leggo appunto quello che c'è scritto qui dietro ho 45 anni e sono come il mio passaporto senza timbri siamo rimasti troppo tempo nel cassetto la storia appunto parla di questo 45enne Carlo che è un ipocondriaco infatti nel momento in cui apriamo il fumetto siamo davanti a una serie di medicina alla macchina della pressione al foglietto del pronto soccorso perché Carlo non va da nessuna parte senza il suo sacchetto di medicina è un uomo che passa più tempo al pronto soccorso piuttosto che a casa sua è un uomo che vive la sua vita avendo paura praticamente di tutto un ipocondriaco che vede l'ipocondria come il suo mostro da combattere che non riesce a combattere non è mai riuscito a combattere tant'è che appunto vive praticamente da solo perché ha paura di fare qualsiasi cosa se si fa un taglietto si immagina già la sua morte va al pronto soccorso per qualsiasi minima cosa e evita di fare praticamente qualsiasi esperienza proprio all'inizio si vede che è appena stato capodanno e lui evita di andare alla festa con gli amici inventandosi scuse in continuazione perché preferisce stare nella sicurezza di casa sua sebbene anche casa sua gli dia dei problemi anche lo stesso dormire gli dà degli attacchi magari di ansia, di panico e l'ipocondria è spesso rappresentata dall'autrice in maniera stupenda come un vero e proprio mostro delle mani che stringono il nostro protagonista e che gli impediscono di fare qualsiasi cosa c'è anche un paragone con quello che fanno a volte le capre cioè il fatto di irrigidire tutti i muscoli e lui stesso si irrigidisce praticamente diventa un pezzo di legno perché ha paura perché ha degli attacchi di ansia e di panico in parte ci si può rivedere cioè anch'io sono un pelino ipocondriaca nel senso che anch'io non vado da nessuna parte senza determinate medicine però non sono a questi livelli so che invece tantissime persone sono a questi livelli tantissime persone nel momento in cui hanno un minimo di qualcosa vanno su google e google ovviamente gli dice che sta morendo quindi so che ci sono e se da una parte fa sorridere anche grazie a questo fumetto mi sono resa conto che è un vero problema che le persone devono affrontare vuoi da sola e vuoi con l'aiuto di qualcuno quindi mi è piaciuta molto la riflessione che appunto si fa sull'ipocondria in generale penso che più o meno tutti noi siamo appunto un pochino, un pelino ipocondrieci però appunto si arriva a livelli allucinanti come il nostro protagonista che non vive perché ha paura praticamente di qualsiasi cosa di avere qualsiasi malattia anche solo appunto con un taglietto però all'improvviso decide di rivoluzionare quella che è la sua vita fa un viaggio molto 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 lungo da Milano dove abita lui stesso fa un viaggio lunghissimo che però è appunto pieno di paura come è scritto qui decide di andare direttamente in Australia perché questo? perché sognando Elvis? perché lui fin da piccolo ha avuto la passione per Elvis il musicista lo sappiamo e ha anche dei costumi che riguardano Elvis è un grandissimo fan di Elvis e in Australia fanno annualmente una sorta di incontro di tutti i fans amatoriali di tutti coloro che cantano che si vestono da Elvis e lui vuole partecipare quindi lui stesso mette in valigia il suo costume i suoi costumi la sua parrucca ovviamente le sue medicine tutto quello che gli serve all'improvviso prende il suo passaporto che come vi ho detto prima è in tonso perfetto e finalmente andrà per la prima volta a timbrarlo perché arriverà in Australia arrivato in Australia però a questo povero uomo accade veramente di tutto innanzitutto perderà la sua valigia e quindi da lì inizierà una vera e propria avventura per arrivare da Sydney alla città in cui si svolge questo raduno dedicato ai fan di Elvis Presley e in qualche modo Elvis è proprio una presenza in questo fumetto è qualcosa che lo guiderà a livello spirituale ma anche a livello fisico che li farà incontrare persone molto particolari a volte pericolose a volte molto buone che lo aiuteranno nel suo viaggio nel suo percorso ed è un viaggio che lui fa da Milano all'Australia ma nel momento in cui arriva in Australia inizia il suo viaggio non solo fisico di pullman camminate e tutto il resto ma anche interiore lui riuscirà in qualche modo a mettersi faccia a faccia con se stesso con la sua ipocondria e a cercare sempre comunque di andare avanti è una storia che ripeto mi ha fatto sorridere tantissimo perché vedevo quest'uomo e a volte mi veniva da ridere perché per qualsiasi minima cosa aveva paura di morire o comunque di stare molto male veniva subito preso da un'angoscia incredibile io stessa sono una persona piena di ansia e mi rendevo conto che sì c'era da sorridere ma allo stesso tempo c'era da pensare tantissimo come le persone proprio a causa dell'ansia degli attacchi di panico che io stessa ho sperimentato degli attacchi appunto di ipocondria si fermino e non vivano la propria vita anche solo il fare un viaggio fare qualsiasi cosa di diverso per loro è uno sforzo incredibile quindi mi è piaciuta molto la riflessione che riesce a scaturire la vita e l'avventura che fa quest'uomo che fa un viaggio incredibile di 22 ore su un aereo continua a stare male ma comincia a capire in realtà come deve incominciare quantomeno a vivere e mi è piaciuto tantissimo appunto il protagonista mi sono piaciuti molto tutti i personaggi secondari che lui pian piano va ad incontrare nel suo viaggio ovviamente quelli positivi perché veramente ce ne sono di negativi che fanno non poca paura in quel caso capivo la sua angoscia ci sono personaggi veramente dai più strani ai più divertenti come un uomo vestito da Sailor Moon che combatte davvero il crimine o comunque tantissimi altri che non sono qui a spoilerarvi che mi hanno fatto anche in quel caso sorridere e mi hanno emozionato nel modo anche più semplice in cui andavano ad aiutare Carlo io ho adorato Sognando Elvis mi ha appunto rallegrato mi ha fatto riflettere e ho apprezzato tantissimo i disegni dell'autrice come avevo fatto già con Freezer anche perché qui c'è molto più paesaggio da vedere rispetto a Freezer dove magari c'era più vita familiare qui invece è un vero e proprio viaggio e quindi abbiamo molti più paesaggi da vedere mi è piaciuta tantissimo e quindi ovviamente ve la consiglio vi lascio il link per acquistarla qui sotto nell'info box io ringrazio la Bao per questa copia in anteprima spero che questa mia recensione vi abbia un po' invogliato a leggere questa graphic novel che merita tantissimo fatemi sapere se magari avete già letto volete leggerla volete altre informazioni chiedete pure qui sotto e niente qui sotto nell'info box tutti i link dei miei social come già sapete spero che leggerete e amerete Sognando Elvis tanto quanto ho fatto io e noi ci vediamo al prossimo video ciao